Cocco parte col destro battuto Melgrati palla al 7 punizione perfetta il professore Andrea Cocco 1-1 cercare il taglio di Manconi ancora una volta alle spalle della difesa controllo di vetto di Manconi si è buttato al centro Giorgione lo vede Manconi che lo serve Giorgione di testa appena entrato ancora il numero 11 l'uno contro uno con il proprio avversario Zoma il cross morbido per il colpo di testa e la rete che raccorcia le distanze Manconi sulla tre quarti Manconi pensa al tiro Manconi un gol straordinario al 51esimo minuto il cross deviato pallone che rimane lì poi rosso a botta sicura e trova il gol Zoma Mastro